Ciao a tutti! Bentornati su Mega Wow! Ragazzi, siamo agli sgoccioli! Oggi vedremo la semifinale prima di arrivare al matchdown di Ready2Robot! Nell'arena si sfideranno colpi di slime, Mongo e Remix! Vediamo! Bentornati a Ready2Robot! La sfida di oggi vedrà Mongo contro Remix! Il vincitore della sfida di oggi arriverà dritto all'incontro finale con Hardware! La prossima settimana al meltdown! Non uscirai da questa battaglia facendo un balletto! Remix! Forse no, Mongo! Ma ho il tuo robot e ho anche il ritmo! Ragazzi! Blaster sonico! È un ritmo martellante! Questi due sono Ready2Robot! Non farmi perdere tempo! Ti ha distorti! Ho dei robot da far saltare! Tipo questo! Mongo ha fatto esplodere il suo robot con la Destructo Slime! Amo quel ragazzo! Finite quel ridicolo jukebox! Sono tornato! Oh, fermi tutti! Wedgie è nell'esagono e quel nerd di pessimo umore! Adios, Remix! Sto arrivando Hardware! Ma prima devo occuparmi di un altro perdente! Sta a vedere, Wedgie! Me la pagherai, ferraglia! Wedgie è un piede nella fossa, letteralmente! Ma si sta dirigendo verso il muro dei rottami! Sto per utilizzare un triple bot blaster! Ma dov'è finito quell'altro? Ah, puzza! Non fa male! Sono un uccello! Sono un aereo! Sono... Tiratemi giù da qui! Wedgie è rimasto appeso! E Mongo vince! Oh, amici! Quanto potranno resistere un paio di mutande biacche? La domanda è... Quanto potrà resistere Hardware? Perché io ti mangerò a colazione, a pranzo e a cena! Lo vedremo la prossima volta! Hardware contro Mongo! Dentro al Meltdown! Prossimamente a... Ready to Robot! Grande, Mongo! Colpo di scena, ragazzi! Mongo è in finale! Non vedo l'ora di assistere allo scontro più epico di sempre! Alla prossima, ragazzi, con Ready to Robot! Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like! Ciao!